Dopo un valser di giudici che l'hanno costretto a lungo i box, entra nel vivo a Lecce il processo sui presunti illeciti commessi nella realizzazione del tratto terminale salentino del gasdotto TAP. Un processo cominciato due anni fa, ma mai andato oltre le fasi preliminari, per aver subito per quattro volte cambio di giudice prima di essere affidato all'ultimo Maria Francesca Mariano, già peraltro titolare del procedimento. Sul banco degli imputati, la società TAP è 18 persone, tra cui i vertici dell'epoca del management, accusati a vario titolo di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento idrico. Nel corso dell'udienza, rigettate tutte le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa degli imputati, volte a declassare l'incidente probatorio a semplice corollario, con la richiesta di escluderlo dal fascicolo del dibattimento perché ritenuto inserito quando celebrato in un procedimento diverso, con imputazioni differenti da quelle attuali, e ancora svincolare TAP dalla responsabilità civile in mancanza di una espressa richiesta del risarcimento del danno da parte delle parti civili, rigettate infine anche la richiesta di nullità di alcuni capi di imputazione per indeterminatezza nella descrizione delle condotte. Prossima udienza, il 26 gennaio, con l'ascolto dei primi testimoni che si annunciano numerosissimi tra accuse e difesa. È stato chiesto l'ascolto di oltre 120, ma il giudice è stato categorico invitando le parti a snellire le liste testimoniali.